non è uscito lo sto trasmettendo allora questa sera facciamo un po' di prove un paio di partite per la qualificazione FUT Champion sente? si? ok va bene allora squadra italiana sempre ancora facciamo la prova vabbè raga ho comprato pure comprato pure Di Bala vediamo un attimino ok partiamo Angolano ho tolto purtroppo Tonali che se non aumenta la carta ancora ancora pecca tanto nei passaggi di quando sull'importazione invece Milinkovic e Angolano sono molto bravi a importare scorso FUT Champion è andato male un po' maluccio sinceramente un po' di stanchezza mentale un po' di incazzamento di incazzatura un po' di tante cose che è andato male ho fatto solo 7 vittorie non mi è successo neanche al primo FUT Champion dell'anno scorso quando per me FIFA è bella squadra per stupro contro Bardi Adama Traorin bella squadra partita che si preannuncia tuttavia anche quest'anno sembra che è difficile che dia qualche cosa di cara anche se al Ghost l'altro giorno ovviamente non scambiabile mi ha dato Rush for Diff che sinceramente è una bella carta Pazziero Dentale di farmi la spara là fallo allora lasciamo battere Pappu passare dall'incrocio ero sbagliata sbagliata c'è il joystick un po' rotto perché effetto FUT Champion di di domenica diciamo che l'ho gettato nel nel cabinetto un po' si è rovinato provvederò con questi giovani a prenderne uno nuovo se c'è qualche offerta pure anche stop Pasquale se non ci sei Pasquale Luzzo dove sei opportunità per i cross lui allora scorso fu Cempion abbiamo fatto molti errori eccolo sulla copertura praticamente pensando la copertura è manuale e non è automatica come l'anno scorso quindi praticamente come sbagli a guidare un giocatore sei fritto vai Berinkovic uff vabbè ecco Lukaku tiro respitto porca trota apre il gioco questo mi incasina un po' comunque questo ragazzo qua sto giocando contro non è tanto forte sinceramente si può tranquillamente battere anche se c'è una balla squadrita semi-bancata smalling erano più coglioni sinceramente cammina smalling veramente è un bel difensore infatti ci sto pensando a sostituire bastos con il fucile con il fucile con il smoglio sì sì effettivamente la mette in mezzo e dai vai in angola segnala infiletta si dice no il termine giusto infilettare confia la rete a Napoli dicono segnala per lui gonfio la rete e questo è un uomo la gonfio attenzione lukaku con questa palla punta la porta occhio hanno sprecato una grande occasione a tu per tu che paradone mamma mia questo quartiere palla verso il centro dell'area colpa di assadevole che non impensiarisce il portiere ma è difficile segnali da lì dai andiamo un attimo buona qui la lettura del difensore non è rientrato in tempo vuole il gioco lukaku non un grande passaggio in effetti decidono di pressare il portatore di palla entrata decisa chi ci non sa un caccio lukaku occhio lukaku taglia fuori bene qui la difesa con l'ancio luogo attenzione pericolo attenzione pericolo attenzione pericolo attenzione se fosse entrata qui veniva giulo stadio pazzesco pazzesco guardate ragazzi pazzesco veramente vai kimi vai kimi vai kimi vai kimi uuuu ma è che portiere questo stiger si è lasciato sorprendere palla in area di rigore ma cosmi oh porca droga si non so se potesse fare meglio adama adama alama shadama occhio a questo pallone filtrate una palla per parti guardi non più guglioni si avventa sul pallone e lo spazza alama shadama comino comino lukaku grande lukaku smaikor smaikor pazzesco smaikor che diventa un fortiorno è mancata è mancata la cattiveria giusta out guarda i miei metri un'ottima serie di passaggi recupera palla e fa ripartire i suoi nine go land bravo qui il difensore che legge bene questo pallone fanculo fanculo voce del barbo ma fanculo adama bardi grande gullibali vengola e adesso vai lukaku e dai e cazzo chi è sto smaikor di merda porca droga fine primo tempo vada margine di miglioramento in difesa con forza settimana scorsa chiunque di piede stagione è bene anche se questo qua non è fortissimo giocare però il problema è in attacco il problema è in attacco adesso proviamo di bala vediamolo mi dispiace per papu però di bala voglio provare l'ho provato un'altra una o due partite da quando l'ho preso sembra certo il due di piede debole ho finalizzato però di gioco oh mano lass trova di bala continuano a far girare il pallone ah e dai che culo che culo che culo questo è culo questo è culo pallone consegnato agli avversari ovvio messa laterale serviva un cazzo vabbè dai ma chi mi va vai chi mi va vai chi mi dai ma chi mi va è davvero mamma mia che paro smygo pazzesco oh sulla linea salvato pulone salva la porta vabbè questo è quasi un gol ha impedito una rete sicura l'attaccante era già pronta a esultare occhio alla ripartenza occhio alla ripartenza occhio alla ripartenza dammi si prendono molte ripartenze della calcio d'angolo la raga oppa l'arbitro lascia correre ottime qualità nel possesso fin qui pallone perso sto sbagliato un passaggio facilissimo guarda attenzione adibala adibala lo so che destro problemone 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 serio capino capino fallaccio ho fatto un fallaccio veramente buone di ornandez lo vorrei cambiare effettivamente si e ci mettiamo anche se non fa bene la fase difensiva ci mettiamo un bel lozano vai andate bene lozano vai andiamo lozano cosa ne esce speriamo per lui che il suo nome non compaia due volte altrimenti è fuori recuperano palla squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa credo che sia arrivato il momento giusto che ha bisogno di forze fresche Hakimi ha spazio lungo la corsia Hakimi opportunità per il cross e dai gol 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 gonfio la reti di testa paolo di bala pazzesco guardate ragazzi pazzesco veramente paolo di bala di testa non si può vedere non si sbagliano non si sbagliano sti passaggi comino un'altra buona giocata facciamo vedere questi 93 di velocità che ha un spin lukaku 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 bella tunnel la smycorn permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri che fate la prima mossa il monteggio che è cambiato la conducono per quei reti a zero se quel pallone fosse passato sarebbero stati i guai ottimo a recupero della trequarte avversaria passaggino senza problemi il portiere se sperano di fare gol così beh forse è ora che si diano una svegliata pallone recuperato lozano ecco lukaku un'entrata decisa efficace bella 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 atmosfera yeah 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 vino lukaku cammino alla maschadama alla maschadama alla maschadama distinto il difensore pazza via ancora 5 minuti raggioccare succedimento interessante a romearu buono il tocco per lukaku lukaku un pallonetto non va pazzesco guardate ragazzi non va bene non va bene non va bene ma da lì doveva fare decisamente meglio non va veramente abbiamo preso un bel buriletto ah no scazzuun 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 queste cazzo di rivartenze che prendo che non va bene non va bene mai guardi guardi sto diciamo che devi queste rimonte ne abbiamo subito tanti poi durante il cento arrivate da un momento all'altro l'unico problema che non c'è più tempo puntaggio cambiato ora siamo sul risultato di 2 a 1 ci saranno due minuti di recupero non si arrendono vogliono almeno i pari può essere uno degli ultimi assalti del match palla schizza via dopo il contrasto bella va 2 a 1 ci ho un gol regalato io comunque l'avversario era quello che era non era fortissimo sinceramente guardate fortissimo non lo era però come dire intanto ci andiamo a prendere questi 40 punti andiamo a prendere non so male 40 punti e andiamo un attimino 1.3 dura 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 sono un bel po' di puntini per qualificarci eh l'altro 100 1.3 ma con 700 punti a 40 punti 10 partiti sono 400 dovremmo fare 20 partite dovrei fare dura dura ma non impossibile 20 partite vittorie in teoria dovremmo pure risalire quindi ce lo dovremmo fare comunque ragazzi vi lascio una buona serata avrei voluto avrei voluto aprire i pacchetti di vision rivals e i premi full champion insieme a voi però essendo che erano scarsi sinceramente non me lo sono sentita settimana prossima vi prometto di fare a parte se mi riqualifico il full champion che non so se riesco a giocare questi giorni qua vi prometto che le ultime partite della VL le farò in diretta quindi con tutte le bestiemi del caso perché sappiamo benissimo che tra l'altro il full champion si rompono joystick si rompono tante cose bestemmi e compagnia bene quindi vi lascio una buona serata alla prossima e se non vi fa bene se non vi fa bene questi non vi fa bene perché mi ha suore un po' che si può fare la stessa di me il rischio è solo 12.000 stranulore Grazie.